Ciao amici di Insieme in cucina.it, mi chiamo Maria Pia, oggi vi farò il tortino dolce alla ricotta. Per il tortino abbiamo bisogno di 500 grammi di ricotta, 200 grammi di zucchero, 3 uova, una costina di valentina e un pizzico di sale. Per decorare abbiamo bisogno di marmellate di tavole, di zucchero a pelo, frutto di bosco, granella di pistacchio. Iniziamo a preparare il nostro tortino. E' un po' di ricotta. Si, un po' di ricotta. E' un po' di ricotta. E' un po' di ricotta. Non è così, non è così, non è così. Abbiamo montato per 10 minuti e adesso impurriamo le nostre pavine. Abbiamo un po' di sottotitoli. Facciamo un po' di più. Grazie a tutti. Inforniamo a forno prediscaldato per 40 minuti a 160 gradi. Riusciti dal forno, il risultato è questo. Adesso mettiamo lo zucchero a bolo. Accompagniamo il nostro piatto. Un'armellata di frago, frutti di bosco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro dolce è pronto. Se questa ricetta vi è piaciuta, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Buona ricetta a tutti. Buona ricetta. Buona ricetta. Buona ricetta. Buona ricetta. Buona ricetta. Buona ricetta.